Dallo stadio Porta Elisa di Lucca siamo con il presidente Massimo Donati a commentare la prima sconfitta della storia dell'FC Ponzacco 1920. Dopo 65 partite utili consecutive, arriva la prima sconfitta a 5 minuti alla fine su un disimpegno sbagliato di Matteo Ballerin, ha approfittato l'attaccante della Fortis e ha portato in vantaggio la squadra lucchese. Presidente, cos'è che non è andato in questa giornata qua a Lucca? Io credo che oggi abbiamo fatto la peggior prestazione stagionale, squadra l'ho vista apatica, una squadra che non ha lottato su tutti i palloni, una squadra che ha tendista, sotto tono, quindi questo è il risultato di una giornata storta, una giornata che mi auguro si ripeta più là possibile perché la squadra si deve vedere dentro, molto probabilmente c'è stato qualche errore e gli errori vanno corretti. Già domenica scorsa si era riscatto la debacle e poi Granito l'ha salvata al novantesimo, quindi c'era già qualche segnale nell'aria che qualcosa non andava? La squadra non è più brillante come inizio stagione, quindi questo ci porta ad avere dei problemini. Consideriamo anche la mole di infortuni che abbiamo perché tenere fuori gente come Tamberi, come Pagano poi alla lunga pesa, quindi dovremmo rimborcarci le maniche, dovremmo essere consapevoli che la squadra c'è, che la squadra deve essere determinata perché non cambiano sicuramente gli obiettivi per questo sconfitto. La classifica ora dice Ponzacco a meno tre dal Pietrasanta con davanti al secondo posto nuovo, quindi stiamo a rincorrere dopo otto partite e i ragazzi si devono dare una sveglia. Ma questo che i ragazzi si devono dare una sveglia è da domenica scorsa che si sta ripetendo, però credo che ci sia tutto il tempo lavorando con serenità e tranquillità di poter recuperare questi punti fin da domenica. Domenica che arriva il San Marco Avenza che ha perso anche oggi, una partita che sulla carta sembra semplice come questa qua di oggi e poi sono quelle dove c'è le maggiori insidie perché le squadre si mettono con dieci uomini dietro la palla e se i due davanti, Breg e Granito, non trovano la giocata, il gol è difficile che arrivi. Diciamo che noi in questo periodo siamo molto legati alla condizione di Breg e Granito, quindi appena loro calano un attimino di condizione come oggi la paghiamo perché non abbiamo sugli esterni gente in grado di fare le giocate perché purtroppo gli esterni non ci sono. Quindi è un momento in cui siamo in difficoltà, è un momento in cui bisogna raccogliere le forze, bisogna essere più determinati, più cattivi perché i nostri obiettivi sono chiari, i ragazzi le sanno chiari, la città le sa chiari, per cui non ci possiamo più permettere svarioni come quello di oggi. Grazie al Presidente.